E' riservato ai cavalli di due anni sul doppio chilometro, in sei, resta a casa nel box, nel paddock, non sappiamo dove, il numero quattro ha roba degli ulivi. 1-3 legati del rapporto di scuderiatta, terme-getta, ananas-get, favorito, Anthony Leone, in salchi, Gaetano Di Nardo, doppio chilometro, mezzo meccanico, in movimento. E prende velocità la macchina. Allargo l'aquila-get, da ottima partitrice, impegni i cavalli all'interno, capeggiati da ananas-get, che però allunga e vuol correre al comando. E così l'ananas rimane leader, parcheggia l'aquila in terza posizione. In seconda posizione è Rov WF, fila indiana al completamento del lancio, in quindici e mezzo. Tira subito i remi in barca il buon dottor Villani, ne approfitta Anthony Leone, che punta in avanti con Gaetano Di Nardo. Allunga Anthony, quattrocento in trentadue e quattro, e Villani riparte con il suo allievo, vuol correre al comando con l'ananas. Cavalli che affrontano la seconda curva, ritorna la carica di Nardo, quarantasetti, seicento. Siamo al completamento anche di questa piegata. Risponde Picche con il suo Marajà, il buon Villani, e completa il mezzo miglio iniziale nell'ordine dell'1e3. Morgan, in arte Gaetano Di Nardo, si deve adeguare con il suo Anthony Leone, il figlio di Ili Beccio Griff, che a Pariglia è il leader. Primo chilometro su mio in 18.2, e cavalli che affrontano la penultima curva, Arrov è sempre in seconda posizione. Mezzo miglio alla conclusione, cavalli affrontano il penultimo rettilineo, la frazione se ne va in 15.5. Torna alla carica il Ili Beccio Griff, risponde bene all'ananas, e torna in vantaggio. Paletto dei 600 finali, due prendono leggero vantaggio dal resto del gruppo. 500 alla meta, torna alla carica il Ili Beccio, che impegna a fondo il leader, cavalli sulla curva finale. Ci va al completamento del miglio, 2-2-2, con Ananas in vantaggio. Anthony Leone perde qualche battutina, retta d'arrivo, allunga il Maragia, allunga e se ne va il Maragia. Voleva correre al comando, aveva tutti i suoi buoni motivi, dottor Villani, con un ennesimo Maragia. Lo stallone targato 2018, Ananas Jet, ben in libeccio di Gaetano Di Nardo, e terzo probabilmente l'Aquila, che si è fermata un po', evidentemente ha perso qualche ala. 1-15-8 sul doppio chilometro, cost-to-cost, notevole, raffinato, del dottor Villani, con questo Maragia, ripeto, lo stallone, edizione 2018. Linea dello studio.